CENTO!!! Altro che cinquanta, cento in meno di un mese! Sono le otto e quarantaquattro e siamo arrivati, sono arrivato ai cento e grazie a voi vi ringrazio e adesso guardatevi il video, ciao! Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video ringraziamento per i cento iscritti Siamo diventati in cento in neanche meno di un mese dai cinquanta Cioè dal 25 gennaio che ne abbiamo cinquanta siamo arrivati ad oggi che ne abbiamo cento, cioè non è neanche passato un mese è una cosa allucinante, non so nemmeno cosa sia successo i video sono più guardati, tutto è più guardato e vi volevo fare questo video per ringraziarvi Spero di arrivare sempre ben alto come ho detto in quel dei cinquanta e si è avverato io vi ringrazio di tutto e finalmente ho cambiato i tasti della tastiera per 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 andare avanti quello si scoprirà negli episodi e adesso grazie a tutti per avermi visto io sono rexitmine77 ciao a tutti bella bellissima figura di caco ciao a tutti ciao a tutti